Mare ingrossato e gran parte dell'arenile mangiato dalla forza delle onde. Lo scenario provocato dal maltempo è stato simile a quello che si era presentato qualche giorno fa quando le mareggiate avevano provocato l'erosione di gran parte della costa marchigiana oltre che a danni ingenti agli stabilimenti balneari. Questo fine settimana, anche se senza particolari danni o segnalazioni, il litorale fanese è stato di nuovo flagellato dalle onde arrivate come in questo caso fino all'anfiteatro Rastat a Sassonia. Disagi anche in zona Arzilla dove si è nuovamente allagato sottopasso ferroviario e stamattina la situazione era ancora così. Visto l'avviso di condizioni meteoavverse con un'allerta diramata dalla protezione civile regionale, i volontari del CB Club Mattei in costante contatto con l'assessore Fanesi sono stati impegnati nel monitoraggio dei principali corsi d'acqua e del lungomare. In particolare dalle ore 14 di domenica sino a questa mattina. Nelle prossime ore, secondo Trebi Meteo, sono previste condizioni di tempo stabile ma fino alla giornata di mercoledì durante la quale è prevista una nuova perturbazione. La fase di maltempo però entrerà nel vivo dal nord-ovest con qualche pioggia prevista nelle Marche entro la serata. Nei primi giorni di dicembre invece arriverà il freddo artico in Europa ancora prematuro, dicono gli esperti, stabilire la posizione del vortice dalla quale dipenderanno le precipitazioni ma di certo porterà un calo termico e possibili episodi di neve sino a bassa quota.